Il maestro Donato Renzetti torna all'Anfiteatro Romano di Arezzo con 50 elementi della filarmonica Rossini. E' stata infatti la musica classica la protagonista del concerto sinfonico con la presenza del soprano Leslie Visco nell'ambito della rassegna Anfiteatro Sotto le Stelle 2021. Io sono affezionato a Arezzo perché per vari motivi lungo a spiegarsi. Siamo partiti con l'Aro Festival, fermati dal Covid, questa è una continuazione perché la città deve capire che l'Aro Festival di Arezzo andrebbe il nome in tutto il mondo. Noi non ci vogliamo fermare soltanto ai concertini estivi e basta, vogliamo portare a Arezzo il nome internazionale. Voi dite perché? Non c'è un perché perché la città merita questo, sono un uomo di cultura. Quando vidi la prima volta la vostra città ho pensato subito che questo era l'ideale perché era un festival. Grazie a Ghinelli abbiamo fatto la prima volta questo raro, un grandissimo successo. Questa volta invece veniamo per legare un po' dopo il Covid un filo conduttore, un concerto non ha tanti temi, diciamo un po' dell'amore della donna. Infatti abbiamo una bravissima soprano che poi presenterò, Leslie Visco, che canterà la prima parte, Aria importanti di Mozart, un famoso pezzo dell'Ottocento Arditi, Il Bacio, e poi finire con la Tarantella di Rossini in versione però per soprano e orchestra. Nella seconda parte è Romeo e Giulietta di Cegoschi, uno dei brani più importanti, famosi e storici, meravigliosi, sentimentali, romantici e un'ouvertura del principe Igor per ravvivare un po' e per dare la carica a questo nuovo mondo che è il nostro di cominciare da capo. Un augurio diciamo che la musica questo lo porta e ripeto ancora una volta senza cultura un paese non può vivere. Un augurio diciamo che la musica questo lo porta e ripeto ancora una volta senza cultura un paese non può vivere.